Mi dicesse una cosa? Dica. La tomba, chi è libera? Che per lei? Io ci stai facendo una domanda, chi è libera? È libera. Ma mi dicesse una cosa? A un che cruci, quando può costare? Signora, i tombi sono tutte a la cruci. Per l'occhio non le indirerà mai, la tomba con l'occhio. Forse vuole dire lo spioncino che dovessi mettere in tappo. Quando gli amiamo a mettere in tappo, chi c'è? Quando può costare? SABBATARE! SABBATARE! Chi è per lei? Ma sarà la monaco? Che c'è per me? Signora, è libera, ma non si può vendere. Come? Chi è libera non si può vendere? Ma chi mi sta pagando per fissa? Chi è libera non si può vendere? Chi è libera o non è libera? Signora, chi è libera? Parlammi chiare. Io ti voglio comprare una tomba. Ma non una tomba nel lì, c'è tomba ritomba. Tomba ritomba. Signora, chi stai vendendo? Una tomba normale, misura standard. Mi ho reso l'idea. Io capisco, io capisco, io voglio stare vicino a mio marito. Su lei vuole più forza chi sta? A me spostare a suo marito. Non capisci? Io voglio stare vicino a mio marito. Chi c'entra? Allora non mi faceva fare chitta normale, in dubbio, e mi ciccava per incontrare a mio marito. Scusi? Io voglio stare da lato, drogo, non mi ci può mettere? Signora, a me spostare a suo marito, vuole capire, va? Ma che c'entra che a me spostare a mio marito? Perché io voglio stare vicino a mio marito, perché io metto a mia? Signora, che stai vendendo a una piazza? A una piazza? Lei ci vuole come minimo una piazza in mezzo o addirittura matrimoniale? Scusi, io voglio stare la tomba. Signora, questo non vuoi essere. Vabbè, perché a me spostare a suo marito? E come c'è lei? Ma che spostare a mio marito? Ma io sono pronta a pagare qualsiasi piazza, mi faccio magari un piazza con la gamba, con la freddomestra che... Signora, dallo chiaro, magari che lei si offende, capisco che non è il momento di dirci certe cose. Per lei sa fare apposta. Come sa fare apposta? E allora, meno mai un osatto e mi faccio fare apposta. Signora, chi non fa l'igname? Perché non fa l'igname? Questo si chiama cappottilino, vuole capire? Eeeh, ma che mi sta volendo dire che io non ho giocato da Inza? Eh, perché ci fossero dubbi, signora? Ma cos'è l'impazzire? Questa pezzo da resseganuto, pensi che sono già ammazzato un cacopo, eh? A me mi dice che non ho giocato, cosa che non ho freddo di vivo. A ragazzi a Dio che sono una persona arrucata, perché se non cos'è chi prendeva? Ti smontava pezzi pezzi pezzi. Cos'è l'impazzire la mia? Sampadolo sta sentendo? Sampadolo sta sentendo? Ah, fatta signora, vero. Ah, come? Infatti le cose le imbazzire, le cose... A me mi sta dicendo che sogno a morire, che signora sta fassi? Che morire, che signora sta fassi? Signora, io ne ho parlato, va bene. Mi ha fatto delle domande e io ho risposto. Ma io ti scasso, ti tappirate, d'ammaggia. Pezzo di raparello che non si ausa. Non ci vuole niente sborracco a mio marito, ma non ti sbaglio, ma non mi possono poter sap correre dalla casa. Le dà, le sgacciate spazzate questo bravo. Lo scasso, lei mi organizzano? Vieni a pagare! Vieni a pagare! No, non ti sono mai iniziali! Mi sbagliate, mi ripекстolo! Mi spazzano il video, va bene! Le sgacciate? Le sgacciate le cose la mia. Le sostituole! La cui amiche! La cui amiche, le sgacciate! C'è lei! La mia, le sgacciate! Mi sono già ammazzato in una scopa! Rapparello! Ho traccia a pubblico! Ho traccia a pubblico! Disgraziato, vieni qua, se hai il coraggio, disgraziato! Chiama questa borsa, chiama questa borsa! Non da rissegare mai più! Non da rissegare mai più! Chiama questa borsa! Chiama questa borsa! I femminili e le vecchie già mutano! Non mi lascia la borsa! Con gentilezza! Ha assalarato un maledetto! Vieni qua! Non c'è Dio che sono una persona arrugata! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! A ringraziare a Dio! A ringraziare a Dio! Perché la prossima volta ti ammazzo! Discipa a destra! La prossima volta non ci sarà, signore! Ancora? La prossima volta, come tu ti permetti, ti scipa a destra e mi metto picciandolo, canta la borsa! Cretino! Rapparello che non sia! Su casimola! Ancora! Grazie! 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 Grazie!